Quali biscotti sceglieresti leggendo solo gli ingredienti? Per rispondere a questa domanda, in collaborazione con l'Università Lewis, abbiamo fatto un esperimento. Edulcoranti. Glicerolo. Aroma. Il 74% delle persone ha scelto i semplicissimi d'olio. Per me è buono. I biscotti con la lista ingredienti più corta e tutta naturale. Buoni buonissimi. Io ne prendo anche un altro. E tu hai mai letto gli ingredienti dei tuoi soliti biscotti? Grazie.